Siamo allo Stefano Rizzo e il città di Rossano continua ad allenarsi a pochi giorni dal Natale con grande determinazione. Allora siamo con il presidente Curie e con il vicepresidente De Simone. Presidente, sicuramente una bella partita quella col Praia che ha portato di nuovo entusiasmo dopo il passo falso di Amendolara. Abbiamo visto una squadra veramente giocare molto bene, in grande soddisfazione nella società. Ma sicuramente, comunque anche lì a Amendolara abbiamo giocato molto bene, purtroppo il gol è mancato anche lì. Sicuramente è stata una bella prestazione col Praia, ci facciamo le vacanze di Natale tranquille, rilassate e serene, quindi ci voleva questa vittoria. Arrivano altri giocatori, è una squadra che comunque sta recuperando parecchi infortunati, resta il città di Rossano una delle candidate per la vittoria finale. E stiamo vedendo anche crescere il numero degli spettatori sulle tribune. L'obiettivo nostro era quello, quello di vincere il campionato come non ci siamo mai nascosti. E sicuramente quello di portare il pubblico al campo perché è uno degli obiettivi che eravamo professi all'inizio. Ci stiamo riuscendo, piano piano, non è facile, quindi siamo molto contenti di questo, sia dei risultati che del pubblico che si avvicina. Si aspettava una prima categoria così competitiva? Perché veramente stiamo parlando di un campionato di quasi promozione. Ma sicuramente un po' le aspettative c'erano, però ancora di più di quello che ci aspettavamo. Sotto le 8 squadre che sono lì a lottare per i primi posti, diciamo. Quindi è abbastanza duro e difficile, quindi ci veniremo al massimo per ottenere l'obiettivo finale. E non è facile, però ci speriamo. Siamo con il vicepresidente De Simone, allora sicuramente questa squadra sta facendo divertire, però è un campionato duro nel quale ci sono tante squadre che si sono molto rafforzate. Cosa ci può dire per questa ripresa con tanti big match? Questo non può fare che piacere a chi piace lo sport e a chi segue il calcio, perché la prima categoria competitiva come quest'anno non me la ricordo. Siccome ci sono molte squadre adesso, tre o quattro squadre, che si sono attrezzate e rafforzate per vincere il campionato. Magari quest'estate si parlava solo del città di Rossano, degli acquisti che avevano fatto il città di Rossano e adesso sarà più bello, più combattuto e entusiasmante. Certo, poi c'è un po' di fortuna, c'è una serie di cose che praticamente devono andare per il verso giusto per arrivare all'obiettivo finale. Ci sono tanti giocatori di nome che hanno disputato anche i campionati di Lega Pro e di Interregionale che fanno la differenza, però ci sono anche tanti 97, tanti 98, lei era d'amica qualche minuto fa a seguire la Juniors e quindi dobbiamo dire che a 360 gradi si sta lavorando bene. Quanto è importante avere dei giovani che hanno anche una passione proprio per questa maglia? Io dico che la cosa più importante per una squadra è avere il settore giovanile. Se non era per questo noi non eravamo a questi risultati perché siamo incappati in un albitraggio un po' particolare che ha ridimensionato la squadra con squalifiche e però noi nonostante tutto ciò, avendo questi ragazzi siamo riusciti a mantenere il passo delle altre. Adesso siamo a rosa completa, penso che dovremmo avere una marcia in più e mi auguro che... Ci sono gli scatti di Catalano che lasciano senza parole De Simone che di solito è molto loquace. Quindi complimenti, io volevo coinvolgerla un attimo, complimenti perché ha lasciato senza parole De Simone, impresa quasi impossibile. È un onore per me. Diceva proprio in questi momenti, adesso rientreranno anche dei big che ci sono mancati, parlavamo di te e sei arrivato, adesso scherzi a parte, questa squadra comunque l'abbiamo vista lavorare anche in un momento, diciamo, tra virgolette di festa con grande determinazione, sempre guardando l'obiettivo finale. Sicuramente, noi però siamo una grande famiglia, quindi a prescindere da tutto l'importante è che stiamo bene tra di noi. Sappiamo il nostro obiettivo quale, non è facile, perché adesso c'è qualcuno oltre noi, come la Rossanese, come il Cassano, che si sono rinforzati. Quindi comunque è uno stimolo in più pure per noi. Però volevo chiudere dicendo che io non sono un big, sono un semplice tesserato che cerca di aiutare la squadra per fare il meglio possibile. Allora, l'umiltà di Catalano ora è il big, diciamo che è De Simone, però è il big delle dichiarazioni dopo partita. Allora, sorpassi, controsorpassi, cosa ci può dire di questa stracittadina che continua? Io dico che... Visto che la Rossanese si è molto rinforzata. Si è rinforzata, infatti i nomi stessi delle persone che ha preso la Rossanese già parlano da solo. Il Cassano si è rinforzato pure. Quindi in pratica io sono convinto che con la partita, quando avremo il Cassano in casa, ci sarà la classifica che darà le sue prospettive. Praticamente già lì si inizierà a capire qualcosa. Allora, buon Natale naturalmente. Adesso lo faremo dire un attimo a tutti e tre. Però io volevo dire, Presidente, a questo punto io di fronte alle telecamere lo invito in studio a Cassano perché sta diventando sempre più popolare tra i tifosi del Cassano. visto che sta aspettando questa partita con grande emozione e partecipazione. Quindi sarà il nostro ospite. Allora, buon Natale, lo facciamo dire secondo me a chi poi alla fine fa divertire i tifosi, ossia Vincenzo Catalano. Allora, tanti auguri. Speriamo di vederti in campo. Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo anche dal capitano del Città di Rossano. Allora, io auguro un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti gli sportivi, soprattutto a quelli del Città di Rossano. Arrivederci a tutti e grazie per l'ennesima intervista e la disponibilità.